Nuovo appuntamento con la lettura. Questa settimana vi porto a conoscere un libro che racconta delle storie vere che riguardano i giovani e le loro difficoltà, sogni, ambizioni. Storie raccolte davvero tra i banchi di una scuola. La scuola è quella della sua autrice perché lei li insegna. Sto parlando di Federica Storace che ritorna ospite a Tra le Righe con il suo ultimo lavoro, con la sua ultima fatica, scialle e poi splendi. Pedrazzi, editore. Ciao Federica, bentrovata. Ciao, sono molto contenta di essere tornata da voi. Anche noi di parlare con te del tuo ultimo lavoro, della tua ultima fatica letteraria. Tu sei insegnante, educatrice, quindi molto impegnata nel mondo del volontariato e in campo educativo. Hai appunto una passione per la scrittura e questa volta hai deciso di raccontare delle storie vere che tu hai davvero vissuto in prima persona perché riguardano i ragazzi che hai incontrato a scuola. Io partirei proprio dal titolo, scialla e poi splendi. Magari lo diciamo anche e lo spieghiamo a beneficio di quelli che, dei telespettatori che magari non hanno un adolescente, un ragazzo giovane in casa, quindi non sanno neanche che cosa significhi scialla. Certo. Il titolo ovviamente, come ben sai, è una parte fondamentale per ogni libro perché attira l'attenzione di chi legge o potenzialmente vuole leggere il libro. Io per trovare questo titolo ho chiesto consiglio ai miei figli prima e ai miei alunni poi perché invece che un titolo insomma banale e scontato, volevo che fosse un titolo originale e al tempo stesso che nascesse proprio dal gergo giovanile. E allora è venuto fuori scialla e poi splendi. E diciamo così che scialla è la parte che mi hanno suggerito i ragazzi perché nel loro gergo, nel loro modo di esprimersi, scialla significa stai calmo. A volte quando si devono rivolgere a un adulto che magari sta in quel momento esigendo qualcosa da loro in maniera forse anche un po' severa, rigida, scialla significa anche non rompere, lasciami in pace. Per cui scialla in questo senso l'abbiamo scelto come un stai tranquillo, non perdere la calma, però poi splendi, che significa però poi prendi il volo e vai ad afferrare il sogno che hai nel cuore. Ecco, nella prefazione firmata da Valerio Bocci, che immagino sia Don Valerio Bocci, lui racconta che tu con la tua abile penna hai fotografato 18 ragazzi, 18 storie, storie anche difficili che hanno a che fare con una difficoltà, con una perdita, con qualcosa che nella vita appunto del protagonista non va e proprio non torna, però senza perdere quella speranza, senza perdere poi l'ottimismo, infatti ogni storia ha una sorta di lieto fine. Sì, Don Valerio Bocci mi ha regalato questa introduzione molto bella al libro perché è direttore generale della LDC, quando ho pubblicato Impossibili ma non troppo con LDC e ha descritto benissimo, dopo aver letto i racconti, quello che io desideravo comunicare, cioè 18 storie vere che io poi ho un po' modificato, i protagonisti hanno i nomi cambiati ovviamente, però sono tutte storie di vita vera, ho vissuta degli spaccati di realtà, una realtà che spesso non è facile, ma volutamente ho scelto sempre il lieto fine, anche quando forse magari nella realtà questo lieto fine non c'è sempre stato e la mia scelta non è stata dettata da buonismo, ma è la stessa che avevo fatto con Anna Maria anche per Impossibili ma non troppo, perché partire dal presupposto che ci si trovi in una situazione di difficoltà dalla quale non si può comunque uscire, a me sembra una cosa impossibile, soprattutto se si parla di giovani. Se noi crediamo e lavoriamo con i giovani, desideriamo essere per loro un riferimento, dobbiamo senz'altro dar loro la speranza, anche quando sembra che la speranza di una via d'uscita non ci sia. Era il messaggio di Impossibili ma non troppo ed è il messaggio di Shale poi Splendi, anche se poi viene declinato attraverso dei racconti che sono strutturati in modo diverso. Quello che mi ha colpito, a parte appunto la bellezza, la semplicità e anche la possibilità di identificarsi, medesimarsi in ciascun personaggio, anche se magari non si è vissuto quello che ha vissuto il ragazzo nella storia in cui tu racconti, però c'è la possibilità appunto di medesimarsi e questo è fondamentale. Mi sono piaciuti molto i titoli che hai scelto per ciascun racconto e poi il fatto che ogni racconto sono un paio di pagine, due o tre pagine anche, a fine racconto un po' di spazio e tu hai inserito un tuo pensiero. Quello che mi ha colpito è uno dei primi racconti e quando tu scrivi alla fine, a mo' punto di morale, va, chiamiamola così, incoraggiare può cambiare la vita, la nostra e quella degli altri. In un mondo in cui chi parte sconfitto è destinato a rimanere tale, sostenere ed aiutare è quasi un viaggiare in direzione ostinata e contraria, ma verso traguardi di inimmaginabile valore e bellezza. Perché hai scelto di concludere con queste frasi così, anche un po' lapidarie? Beh, intanto non volevano assolutamente essere una morale, perché lungi da me il fare la morale a chiunque. Ho scelto di mettere una frase, anche lapidaria, proprio perché potesse essere uno spunto di riflessione, una chiave di lettura. Era quella chiave di lettura che io avevo pensato per quel racconto, però nello stesso tempo, secondo me, chi legge dà una chiave di lettura, ne può trovare mille altre, perché se io leggo un racconto e a me quel racconto comunica un determinato messaggio, perché sto vivendo una determinata esperienza in quel momento, chi legge, e questo me l'ha insegnato un po' l'esperienza degli anni precedenti, quando i lettori mi contattavano per parlarmi di quello che avevano suscitato in loro le storie che avevano letto nei miei libri, no? Per cui ognuno che legge trova nel racconto un significato, una chiave di lettura, un messaggio che è diverso da quello che ho invece trovato io nel momento in cui scrivevo il racconto. E la frase finale è proprio una mia riflessione che però significa anche qui c'è una porta aperta, c'è una chiave per aprire una porta e ciascuno apra e trovi la sua chiave di lettura. Ti sei ispirata a qualcuno in particolare o a qualcosa? Perché te lo chiedo perché c'è un'altra frase anche molto bella a proposito della storia di Miriam, la gabbia e la farfalla, in cui dici alla fine appunto lasci questo pensiero e scrivi saper trovare varchi quando sembrano non esserci vie d'uscita, scintille di luce nel buio più profondo può fare la differenza tra vivere e vivacchiare. Qui mi hai ricordato Pier Giorgio Frassati. Sì, anche, sì sì. Poi in altre frasi ho citato ad esempio Exupery e il piccolo principe, a volte invece le riflessioni sono nate proprio dall'esperienza mia personale che stavo vivendo in quel momento perché c'è tanto di me anche in queste storie, anche se parlano di ragazzi, anche se parlano di problemi che io per fortuna magari non ho vissuto perché ogni racconto tratta un argomento diverso, però il momento dello scoraggiamento l'ho vissuto anch'io, il momento in cui ho creduto di non potercela fare da sola per risolvere un determinato problema e ho avuto bisogno dell'incoraggiamento degli altri e l'ho vissuto anch'io, per cui sono anche riflessioni date dalla mia esperienza personale. Ottimo. Federica è sempre un piacere parlare con te, confrontarsi e presentare ai nostri amici telespettatori i tuoi libri. Fermiamoci qui perché non vogliamo svelare nient'altro, anche se non abbiamo, come si dice nel gergo moderno, spoilerato più di tanto perché davvero sono racconti e storie che vanno lette, anche magari non partendo dalla prima e arrivando all'ultima, anche aprendo così l'indice alla fine e scegliere quella che magari più vi ispira. Io vi ricordo appunto il titolo del libro di Federica Storace, Scialla e poi Splendi, la prefazione di Don Valerio Bocci, Pedrazi, editori. Quindi grazie davvero per essere stata con noi e perché no, di questo passo appuntamento al prossimo libro, magari l'anno prossimo o tra un paio d'anni. Speriamo. Te lo auguriamo. Ne sarei molto contenta, grazie a voi per l'ospitalità. Grazie a te Federica. Grazie a tutti.